un uccellino mi ha detto vediamo se fa un altro aggiornamento mangio da questi qui dici starci però prima andiamo a ottile a vederci qualche novità sai che tecnicamente manca qualcosa da lei perché di fortunato adesso qualcosa sappiamo di martin un pochino di lei non sappiamo quasi niente ancora quindi forse sarebbe meglio guarda dargli una mano anche se rimane discorso anche del cifrario no non sale sulle scale ho già provato in certi casi lui non ti spiega niente ma è salito come abbiamo visto nella biblioteca ma in tutti gli altri posti sembra di no in altri posti sembra che ci deve essere per forza l'icona poi non riesco a capire perché appunto un po' c'è l'icona un po' non c'è questo è un bastone sembra questo deve essere il bastone di Renning 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 Camper è il defunto marito di Ottilia ed era fatto così un coniglio col porta robusto però la testa si è rotta il danno sembra recente Ottilia avrebbe potuto usare questo bastone per uccidere Lorenz ah tu pensa che io pensavo che fosse per iniziare i misteri invece quanto pare non c'entra niente Ottilia il bastone di vostro marito è rotto ricordate come è successo qui io l'ho spaccato di testa come faccio a saperlo ogni cosa qui dentro è rotta e cade a pezzi aveva una spaccatura in testa il barone si però la testa di un bastone fatta in piombo che cos'è fatto testa si è rotta a un certo punto non ricordo come va bene sembra che dubitiamo va vedi che bastone rotto di Renning la malizza la vedo si chiama questo qui non c'è altro che cosa che cosa vuoi eh vorrei fare i mestieri non possiamo più farli ok così ci taglia fuori allora dunque ho trovato il vecchio bastone di Renning Kemper in casa della vedova era priva di impugnatura e sembrava si fosse spezzato in recente dovrei provare a scoprire come è serotto e come lo scopriamo come è serotto? se lei non ci parla se sei così lento a passare da una categoria all'altra io sto scherciando ma è pesante le tasse no si le tasse dei Gertner ancora non capisco perché c'è la seconda S che sembra una F le tasfe le tasfe dei Gertner qualche pagina in più comunque sono adesso in questo momento sono la filanda acquisito informazione su varie attriti esistenzi esistenti in città incluso il fatto che Martin Bauer è un noto ladro anche se le donne convengono che difficilmente sarebbe capace di compiere un omicidio ma lo sapevamo anche prima le donne mi hanno rivelato che Lawrence ebbe una relazione con la figlia di Fortunato Beate che rimase incinta in seguito la ragazza morì per complicazioni mentre cercava di porre fine alla gravidanza non è un suicidio però voglio dire è un incidente non è un suicidio come scopriamo questa cosa qua del io non avevo fatto caso che fosse una specie di bastone ho visto che lì c'era la scopa pensavo fosse una scopa in terra no? non ho uno l'ho guardato bene che quindi bastava prendersi quello per poi iniziare a fare i misteri come aveva chiesto lei ma a quanto pare qua non ci parla quindi boh sembra che abbiamo perso l'occasione a quanto sembra adesso tu dici andare a pranzo da loro però io per sicurezza vorrei provare prima a tornare un attimo alla Abazia e in particolare andiamo a un mulino un secondo vediamo queste va già parlato no? buongiorno ah perdonatemi ho dimenticato il vostro nome così mi riferisci chiamami Andrea spero di poterti chiamare Elsa ci proviamo con la moglie no devo dire no per favore dove mio marito potrebbe sentire ah però ha capito e si preoccupa del marito eh proviamo tipo geloso non gli piacciono molte cose dobbiamo rilassarsi tutti meritano di vivere un po' non tutti ho sentito che Clara ed Eva ospitavano un artista a casa deve essere molto eccitante eh siamo noi per loro o per me Andreas oh volevo dire vivere in una fattoria insieme alla gente del posto deve essere una vita movimentata no? eh solo quando Peter inizia a sprolocchiare sulle gabelle del mugnaio solo quando il vecchio Peter si sveglia e non riesce a trovare il vaso da notte per ora mi sembra una vita come tante altre oh questo qua oh cielo cerchiamo di di portargli via la moglie anche anche insultando facendogli pesare che il marito è uno stronzo a parte che lo sa già però Ursula porta un po' di gioia alla famiglia una bambina davvero adorabile prego signore che un giorno possa benedirci con una figlia Elsa eccolo qua hai finito di cianciare c'è da lavoro da fare oh no sono spiacente do tornare al mio lavoro naturalmente chiedo scusa per il disturbo arrivederci arrivederci vabbè allora vediamo eccolo qua che visto così sembra anche un voto gentile il cane è una statua sì buongiorno siete l'affittuario dei Gertner vero? come ho fatto a saperlo? perché anche lui sta usando questo? sembrate un uomo che capisce l'importanza delle apparenze beh più di te probabilmente sì siamo visti meglio al contrario dei Gertner beh a parte che apparenze significa anche come come sembri come persone eccetera non tanto solo come ti vesti però sono agricoltori vi aspettate che si comportino nobili in effetti è gente rustica siamo meno un po' più diplomatici io è l'unica tra loro con un po' di cervello lei sì che è una ragazza intelligente non lo conosco a proposito come sta? perché vi interessa? solo curiosità un tempo era lei a portarmi l'orzo ma ora Peter insiste a consegnarmelo personalmente chissà come mai che cosa ci hai provato con lei peccato aveva mostrato una certa curiosità per il mulino speravo di coltivare il suo interesse sì speravo di chiudersi dentro nel mulino con lei non l'ho giocato non l'ho giocato nemmeno visto Matteo diceva che questo Edward Kenway è è uno di non è il protagonista è un personaggio di Assassin's Creed 4 Black Flag però non l'ho proprio presente dice che assomiglia questo qua qualcosa di speciale proprio il protagonista ok è l'unico mulino a vento in Baviera lo sapevate? in tutta la Baviera c'era solo questo costruito nei minimi dettagli in base alle specifiche olandesi ok non si vede che non era hai pagato il brevetto hai pagato il brevetto a Yolanda si è andato là ho capitato per caso ha detto che bello questa invenzione è come il discorso del bidet no? bidet però si rifiutano ancora di usarlo ce l'abbiamo noi in Italia per me è essenziale il bidet se vai in bagno devi farti la doccia se ti devi lavare lì non capisco non si usa nessuna parte a parte un po' i giapponesi che adesso fanno è un pezzo che fanno butter con integrato i tergicristalli ma nessun'altra parte c'è anzi ma in Griterra c'hanno ancora i cose separati i rubinetti separati che è una cosa assurda assurda se tu pensi devi farti la barba hai due rubinetti staccati proprio con non il miscelatore proprio due rubinetti proprio due tubi uno acqua fredda e uno acqua calda se tu devi farti anche solo la barba come cavolo fai devi per forza riempire devi riempire perché se no non puoi non puoi fare l'acqua tiepida per fare l'acqua tiepida tu devi per forza riempire un po' il lavandino quindi se ti devi fare la barba devi lavarti lì si sporca l'acqua dovresti rilavarti ti risciacqui con l'acqua insaponata come dire insaponata ma che non si possono aggiornare no è bidet e così anzi hanno ancora anche la moquette in certi casi che sai che è un si riempie di polvere la moquette è anche carina ce l'avevo quando ero piccolo in una in una delle case in cui ho abitato ma si riempie di polvere ci vogliono cent'anni per pulirla la gemma delle alpi quindi dico questo qua si vede che è stato in Olanda nessuno aveva ancora appestato il mulino a vento lui l'ha copiato non ha pagato i diritti ovviamente e ha costruito qua la gemma delle alpi ma nessuno dei bifolchi ignoranti qui sa apprezzarlo ma che deve apprezzare basta che funzioni che ne frega allora cos'è devo devo portare le offerte a un altare no oh mulino che mulino a vento che bello certo sono sicuro che i problemi sono i contadini infatti credo proprio che hanno questioni più impellenti ok tipo lavorare per pagare te dovrei andare arrivederci alla prossima maler ma sa anche il nostro cognome guarda qui c'è qualche novità non credo questi disegni dei bambini disegni fatti da un bambino mi chiedo chi li abbia fatti se questo opposto è crollato probabilmente dava accesso all'acquedotto vabbè niente di particolare insomma a generale qualcosa di occulto invece non c'è niente allora dicevamo mulino resta non abbiamo ancora visto il carbonaglio per esempio se non ci bloccano in qualche modo perché io temo questo no temo diciamo di non fare allora ricordiamo il secondo il diario è il primo mezz'ora per salire dovrebbe essere immediato ma vabbè quando hai finti in piscale se non è dunque è arrivato l'abazia interrogarà le persone collegate vuole interrogarmi nella sala capitolare la nona parentesi io non me lo ricorderò mai queste date qua ma non abbiamo un orologio da qualche parte rossario guardiamo un attimo no non credo che sia qua aspetta forse qua c'è un matutino qua testa terza warm avviso se c'era scritto nona a me non sembra prima vabbè comunque nella sala capitolare quindi non andiamo lì volevo semplicemente andare di nuovo dal si passava dai bastioni cucina cantina cimitero andare alla casa da di fare anche no cimitero cimitero animali vediamo un attimo la mappa casa del priore vedi che è lì sì sì dove c'è il lavoro quindi ok risaliamo questo per te Gerard è morto da un bel po' di tempo per quale motivo la sua tomba è stata violata chi è ste fratello Gerard cavolo c'è lui facciamo entrare lo stesso ha bruciato qualcosa qualcuno ha fretta di sbarazzarsi questa pergamena ma non entra in casa che siamo entrati l'odore è recente probabilmente non è stata bruciata più di un giorno fa biglietto bruciato mani occulte su questa pergamena si vedono segni molto profondi chiunque abbia scritto sulla pagina precedente doveva essere furioso forse potrei passare il carboncino su questa pagina per scoprire cosa ha scritto si legge alla perfezione è una lettera al barone da parte del priore Ferenc perché sotto c'è scritto old old vuol dire tieni premuto ma non è così si fratello Ferenc è comportamenti molto sospetti mio dio Lorenz stava ricattando Ferenc per costringerlo a compiere una sorta di rituale occulto ecco forse perché è arrabbiato ah vedete che ci viene aiuto forse dunque una cosa è leggere libri sulla magia ma pochi sono tanto sciocchi da tentare di metterli in pratica poi non c'è da stupirsi che Ferenc fosse così turbato dall'arrivo di Lorenz il barone avrebbe potuto farlo giustiziale per stregoneria non aveva un gran motivo per farlo giustiziale nel senso perché o faceva quello che diceva lui bisogna vedere in cosa consisteva il calto che gli serviva perché doveva farlo giustiziale comunque niente c'è questa prima risposta qui diciamo così ma proviamo a cliccare vediamo cosa succede niente tutto qua allora vediamo il senso magari spero che conosco il collegamento tra i simboli astrologici sul cifrario e quelli elementari sulla volvella dovrei riuscire facilmente a cifrare una notte di Frenx se lo fai in automatico mi fa in favore che io non sono pronto detto aspetta aspetta adesso forse l'ho visto sì sì allora adesso dovrei aver capito perché lo vedo qua H è giusta poi devo andare in verde e scegliere la lettera sotto nella seconda riga nella prima riga ci sono i punti sinergio giudicali che indicano il quadrante alla fine la seconda riga è la lettera da scegliere e poi c'è già andato lui poi poco e devo fare la beta c'è già andato lui devo solo girare alla fine allora quello lì è acqua e se lo faccio lo fa da solo dunque non lo faceva da solo probabilmente appunto finché non avevamo non avevamo letto il libro poi il sagittario è sempre fuoco riconferma che vado a solo dove deve andare Iger adesso vediamo poi aria poi terra poi sempre terra e poi acqua è un anagrammato Gerard come il defunto fratello Gerard sì sì non può essere una coincidenza di Gerard di Gerard fratello Gerard è morto l'anno scorso in che modo può essere collegato è un anagramma con il nome di Gerard non vedo che ho usato il nome ha usato il nome come abbreviazione non vedo che parole potrei comporre con queste lettere il doc lo saprebbe di certo forse non è un anagramma forse non è un anagramma farmi pensare ho usato il suo nome come abbreviazione perché ho usato il suo nome e perché il Gerard può essere greco ma hai sentito in italiano di uno spagnolo di nome il Gerard ridicolo non è nulla che io riconosco alla fine farmi pensare ho usato il suo nome come abbreviazione ok sono troppe lettere per un'abbreviazione appunto possibile che sia un cifrario all'interno di un altro cifrario è vero? non so farmi pensare un momento forse è sia un'abbreviazione che un nome Gerard è il nome a cosa potrebbe riferirsi H I ah ok perché c'è scritto Gerard infatti però c'è H I prima haud ignota ink il lae lacrimae come a dire è molto più semplice ik iacet qui giace qui giace Gerard vabbè dobbiamo andare sulla tomba dai credo la tomba di Gerard mi chiedo se c'è un nesso con l'omicidio il barone ma si è abbastanza rai chiede alla batte il permesso di resumare la tomba il primo possibile ok proviamo un attimo andare a C9 di nuovo ma non credo che cambi niente tomba di finestra violata Frank deve averci sepolto qualcosa voglio capire che intenzione avesse devo resumare la bara prima però mi sarebbe permesso di padre che no quanto che se gli ho chiedessi 8 mi aiuterebbe scusarsi che fratello volkberg si è esposto darmi una mano allora volkberg c'è questo aiuto quindi perché non possiamo chiedere di aiuto noi per esempio tomba violata ho messo un attimo visto che poi dopo sono ritornato in me col puzzle dico allora dovrei trovare volkberg però adesso parlare con Frank un secondo no andrea scapirevo terribile davvero terribile un barone assassinato a Kershaw questi sono davvero giorni bui fratello Piero tra l'altro lo faceva da solo fratello Piero lo ammetto parlano sempre dell'enigma del cifrario non me lo sarei mai aspettato da lui cosa gli sarà preso non credete davvero che il fratello Piero abbia ucciso il barone non è la sua natura Piero ormai è un piede nella fossa credete davvero che avrebbe potuto uccidere un uomo nel fiore degli anni prena la lingua Andreas potrà anche essere un assassino ma quell'uomo è ancora tuo fratello in Cristo veramente non hai capito cosa ti stavo dicendo l'invidia e l'orgoglio portano gli uomini alla follia Andreas anche i vecchi magari lui ne sa qualcosa ma cosa ti porta qui hai bisogno di qualcosa ho trovato uno strano biglietto nel vostro cammino era scritto con una calligrafia molto raffinata mi sono imbattuto un'interessante lettera scritta a voi indirizzata al defunto barone vi siete precipitati allo scrittorio e avete nascosto qualcosa di strano che famo lasciamo perdere sarebbe da dirgli tutte e tre in realtà quella più cosa è questa quella più collegata al discorso del delitto come dovessimo scegliere questo sembra come metterlo a suo possono dire oh stai calmo stai lì proviamo stiamo facendo una run in cui ci facciamo tutti i nemici che cosa dove l'hai presa ma non hai visto che ci sono passato davanti al naso e cosa non hai la camera ah si scusa non ho più visto che non l'ho messo la camera tutta prima poi non l'ho più messa ma sono lamponi quelli giganti non dovreste lasciare cose simili in giro qualche persona senza scrupoli potrebbe usarle per fini subdoli ho realizzato un'impressione del vostro tacuino state celebrando rituali occulti con il barone questo sembra andare verso di lui no come dire cercare un po' di di esserci della sua parte no questo invece continuiamo a insistere io insisterei costringimi a celebrare un rituale per aiutarlo con una certa situazione ma ho rifiutato come risulta ben chiaro dalla letta minazza il barone e sussisteva e voi sapete quanto possono essere capriciosi inquisitori sui libri libri che le persone scelgono di leggere comunque davvero mi sta venendo la voglia di giocare un po' tra l'altro ci sono anche tutti i cose come si chiamano hanno portato non tutti ma abbastanza dei ace attorno non so se l'ho già detto forse che era una serie che era uscita sul 3ds in cui tu interpreti l'avvocato devi fare delle indagini grafica cartoon piacerebbe poi avevo anche pregio quello di una tizia che fa un delitto sulla nave c'era un po' di giochi che sarebbe interessante giocare tutti insieme soprattutto se fossimo in più persone comunque la minaccia di marcazione tra chi conosce tali rituali e chi le pratica è sottile come il film di una ragnatira a prima alla malattia francese